tutto questo qui e zack non so, non mi ricordo se l'ho usato in un altro video, onestamente non sono strenissimo, è molto bello ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi 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 finalmente nuovo video diciamo tutti insieme challenge se ti addormenti per per chi fosse nuovo nel mio canale e non fosse conoscenza di questo format è una challenge in cui io proverò a farti addormentare e se ti addormenterai perderai ma in realtà vincerai perché penso che il tuo scopo qui sia addormentarti quindi siamo lì prima di iniziare con la challenge in sé vi spiego un po' come funzionano le varie parti, i vari step allora la prima parte del video la primissima sarà con questo tono di voce che si chiama soft spoken poi verso metà video calerà e diventerà whispering quindi questo sussurro questo tono di voce ancora più avanti nel video passerò ulteriormente ulteriormente il tono di voce fino a farlo diventare un inaudible quindi inaudibile quindi non capirete ciò che vi dirò questo è un esempio di inaudible prima ci sarà un prelievo dei pensieri perché non ci si può addormentare con la testa piena di pensieri che vanno quella 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 poi faremo due suoni super rilassanti che non penso di aver mai portato sul canale uno forse una volta e e infine ci sarà un countdown e delle carezzine in inaudible semi inaudible questo è il programma di questo video se questo video ti piacerà non dimenticare di lasciarmi un mi piace e di dirmi qual è stata la tua parte preferita nei commenti bene io leggo tutti 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 i commenti infatti vedrai che sotto tutti i commenti c'è un cuoricino bene io direi di cominciare subito questo con il prelievo dei pensieri prendo 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 e prendo prendo questo qui In questo periodo la nostra testa è piena, piena, piena di pensieri, anche la mia davvero, ma prima di andare a letto. Bisogna cercare sempre di svuotare la testa, perché senza un buon riposo non si va da nessuna parte che la sicura. Quindi ancora e ancora Zoc 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 Via 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 Pronto Via Via Pronto Via 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 togliamo anche questi che sono un po' radicati dentro la nostra testa che non se ne vogliono andare ok bene ora possiamo procedere con il primo suono questi due suoni sono pazzeschi, sono due suoni speciali che ho proprio tenuto per questa challenge il primo non so se ho riusciuto a vedere il vapore di Keisha non lo so è una, diciamo così, borsa dell'acqua calda la propria sacca adesso lo andremo a chiudere questo è uno di quegli oggetti che mi è stato oggi regalato dalla wishlist sentite un po' sentite un po' un po' sentite un po' sentite un po' sentite un po' Non è un suono incredibile Dentro c'è dell'acqua calda 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 Infatti dovete sapere che l'acqua calda non sono molto più soffice rispetto all'acqua fredda Quindi è molto più piacevole, per lo dito Adesso non scorre che sta sul fuoco Sto tenendolo lontano, non riesco a parlare e fare il suo nome Pregnamento perché sono molto forte Medi del lupore Sentite il suo girare intorno a voi Questa è la vostra? Sì 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 mi è venuto in mente che potrei metterci qualcosa di frizzante qui dentro però non sarebbe caldo devo un po' sperimentare con questo oggetto perché secondo me sono bellissimo anche con i ghiaccioli dentro proveremo tutto, proveremo tutto, non vi preoccupate date un voto a questo trigger, io lo amo grazie 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 per ferme lo regalato dalla wishlist mi è anche tutto caldo dovete sapere che nonostante ci sia caldo in questo periodo, oggi è una giornata in cui piove però in generale qui dove giro è sotto terra, diciamo almeno uno e quindi sapete che nelle cantine così c'è sempre freddo quindi in inverno si ghiaccia, l'estate si sta bene però io sembro sempre ultra vestita in realtà perché qui c'è più freddo il secondo suono di questo, di questa challenge è un oggettino molto particolare, è un rompicapo, non so se dica così, si è definito così e non so, non mi ricordo se l'ho usato in un altro video onestamente ma sono stranissimo, è molto bello e l'avete scelto voi su Instagram, ho fatto un sondaggio, ho fatto scegliere tra due suoni e avete deciso di mettere, molto combattuti, avete deciso di mettere questo che è il rompicapo, si chiamerà quella stella, non ho idea comunque è questo questa stella ha troppe punte fatta di pezzettini di legno e il rompicapo è appunto a capire come montarla a me, diciamo, l'ho trovata già montata faceva parli tipo di un kit che davano dopo i convegni e quando per sbaglio si è rotta, si è smontata le risate, mica tanto le risate dopo cioè, non avevo idea di come fare ho cercato su YouTube, c'è tra mai è proprio difficile di raffinare la tecnica non saprei come dire certo non mi sono neanche messa a riprovarci da sola perché non è proprio mio tipo di gioco e ogni volta che si rompe uno lì ok, vi lascio a solo 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 è sempre stupendo trovare questi suoni veramente super particolari quando l'ho preso per la prima volta e mi ho detto vedete le mie solite facce ma non scopro un suono è strano che non ve l'abbia portata finora sul canale perché in realtà io mi piace tantissimo però ho talmente tanti oggetti che non c'è stato fuori potete fare un video sul ligno e sui suoni di vari oggetti in ligno lo guardereste? mi interesserebbe ultimamente sto scoprendo gli soli naturali soprattutto in cucina prima diciamo che prima diciamo che tendevo molto ad andare a una sola decine per andare a una cosa più disparate e poi sono una volta adesso sto scoprendo veramente tantissimi suoni super belli con cose che ho in casa per esempio ve lo vorrò ascoltare i legumi a mollo le mie l'acqua pensate che ora facciamo in mente quel suono da guardare in un nuovo video e normalmente avrei sembrato tipo delle palline inutilissime da poi mettere nell'acqua e mi sarebbe la servita proprio quelle invece così utilizzi cosa che già hai sto tornando col suonare più spennifili ok ok è che mi vuoi mi vuoi vieni vieni che vieni vuoi vieni vieni e molto bene date un voto a questo trigger era tutto il tempo che cercavo di fare questo suono vi stavo dicendo che stavo cercando di farlo solo da un po' ma sapevo che era rischioso perchè rischiava di spaccarsi infatti è ciò che ha fatto approfitto per farvi vedere i pezzettini vedete sono 1,2,3,4,5,6 pezzettini fatti così niente vi comparro a tempo detto non ora tra l'altro aspettate i bloopers adesso parliamo bene adesso prima di darvi la buonanotte prima di darvi la buonanotte prima di darvi la buonanotte facciamo un bel contorno e abbassiamo il tono di voce niente 3,5,6 pezzettini fatti e non ci sono iniziamo la buonanotte vada lì 4,5,6 pezzettini fatti pronti 30 30 30 29 29 28 28 28 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 41 di chi? di 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 quattordici tredici tredici due 11 10 9 8 7 7 7 5 4 1 2 3 2 3 4 4 5 6 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 16 15 15 15 15 16 18 18 19 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 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 21 20 21 21 21 22 22 23 21 21 22 22 22 22 23 22 22 22 23 24